Che lavoro me ne hanno dimenticato? Che lavoro fai? Beh, mi interesso di molte cose. Cinema, teatro, fotografia, musica, leggo... Concretamente? Non so cosa vuoi dire. Non sai, cioè, che lavoro fai? Nulla di preciso. Beh, come campi? Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose... E l'affitto? Vivo con mio fratello e non lo pago. Vabbè, dico, i vestiti? Eh, ho un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti... Vabbè, il mangiare? Mi ospitano molto spesso. Questa sigaretta qui... Ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di queste.